Le previsioni avevano annunciato pioggia già ieri sera, ma di fatto la tempesta di tuoni e fulmini ha svegliato i salernitani durante la notte. È stata una pioggia battente accompagnata da forte vento, quella che intorno alle tre e mezza ha svegliato tutti coloro che erano già andati a dormire dopo aver trascorso fuori la serata di ferragosto. Stanotte in tanti sono stati costretti a chiudere velocemente le finestre e stamani un po' ovunque il risveglio è stato contraddistinto dalla consapevolezza dei danni creati dal maltempo. Il forte vento ha divelto dei cartelli lungo le arterie stradali ed ha abbattuto alcuni alberi, soprattutto sul lungomare di Salerno, in pieno centro sul lungomare Trieste, così come nella zona di Torrione sul lungomare Marconi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che sono stati allertati dai cittadini, i quali hanno richiesto il loro aiuto e la loro azione per salvaguardare l'incolumità pubblica. Stamani gli operai della manutenzione verde pubblico del comune di Salerno sono intervenuti per tagliare i rami che si sono abbattuti violentemente sul lungomare Marconi di Torrione e per rimuovere i rami spezzati. Alberi che non hanno retto al forte vento, breve ma intenso, che durante la notte, soprattutto nella zona frontemare, ha fatto sentire il suo peso. Danni agli alberi dove sicuramente pesa anche la mancata manutenzione del verde dell'ultimo anno. Grazie.